In Italia il divorzio esiste dal 1970 con il valo della legge 898, una fase della nostra storia molto importante attraverso la quale fu elevata la sticella culturale degli italiani, i quali fino a quell'epoca non avevano il diritto di sciogliere un matrimonio, una legge che ha dato anche la libertà a molte donne di dire basta rispetto a situazioni insostenibili e la libertà in generale agli italiani di rifarsi una vita. Per la verità negli altri paesi il divorzio esisteva da secoli, ma esisteva anche nell'antica Roma, per fortuna poi ci sono state tra l'altro varie riforme del diritto di famiglia e in effetti il divorzio può essere definito come scioglimento del matrimonio se il matrimonio è stato celebrato davanti all'ufficiale di Stato civile o cessazione degli effetti civili del matrimonio se si tratta di un matrimonio celebrato in chiesa secondo il concordato. Non c'è molta differenza, anzi la cessazione degli effetti civili del matrimonio in vista giuridico, ma è importante essere precisi da questo punto di vista. È l'atto finale, è l'atto quando appunto la famiglia finisce dopo il percorso di separazione, è il momento in cui da coniugi si diventa due perfetti estranei e ci sono delle conseguenze particolarmente importanti per quanto riguarda questa procedura. Innanzitutto con la cessazione degli effetti civili del matrimonio o con lo scioglimento del matrimonio vengono meno i diritti successori e solo attraverso il divorzio vengono meno i diritti successori. Si può rimanere per esempio separati per tutta la vita ma non divorziati, in questo caso il coniuge separato potrà ereditare dall'altro coniuge premoriente. Poi c'è la possibilità appunto di contrarre nuove nozze e una delle questioni più particolarmente delicate della procedura di rivolzio è sicuramente l'assegno di rivolzio. Voi sapete benissimo e poi ne parlerò in maniera più precisa che negli ultimi anni dal 2017 ad oggi ci sono state una serie di pronunce della Supremacorte di Cassazione, sia anche a sezioni unite, in cui è stato messo in discussione un po' il tenore di vita come criterio di quantificazione e riconoscimento dell'assegno divorzile e diciamo che oggi l'assegno di rivolzio è sempre più difficile da ottenersi. Ciò che rileva è soprattutto l'autosufficienza economica di chi lo richiede, quindi la capacità oppure di produrre ricchezza per potersi sostentare, perché non era più possibile, secondo gli ermellini, una sorta di continuazione alle rendite parassitarie, cioè un assegno di rivolzo a vita a prescindere. Adesso i giudici sono chiamati a valutare caso per caso. Ovviamente per quanto riguarda i matrimoni di lungo corso, dove il coniuge che richiede l'assegno può dimostrare di aver fornito un contributo molto importante per la crescita umana, economica e professionale del coniuge più forte economicamente, l'assegno è riconosciuto, ovviamente secondo criteri particolari che tutto sommato si avvicinano anche al tenore di vita. Certo un matrimonio di lungo corso, durato 30 anni, per questo tipo di unione coniugale, l'assegno va parametrato a ciò che effettivamente è stato fatto per l'altro e deve avere un significato compensativo, retributivo, addirittura risarcitorio. Quello che io consiglio sempre è il divorzio congiunto, in cui ci si può mettere d'accordo su tutto, anche attraverso la somma 1 tantum, articolo 5, legge 898-70. Ciò significa che si può liquidare il coniuge economicamente più debole in un'unica soluzione, senza che quest'ultimo possa pretendere in futuro un assegno di mantenimento, ma soltanto un assegno eventualmente alimentare, quindi un assegno molto basso dal punto di vista economico. Anche per questa procedura ci vogliono avvocati esperti, avvocati preparati, non è più possibile pensare che per procedure che comunque riguardano la vita delle persone e delle famiglie si possa affidarsi al primo avvenuto o al cugino o a un avvocato simpatico del proprio condominio. Bisogna fare una scelta, come succede un po' quando si va dal medico. Voi andreste mai evidente quindi che ogni professionista deve avere una sua connotazione specialistica. Anche per il divorzio è possibile una negoziazione assistita attraverso due avvocati ed evitare di entrare in tribunale e se c'è quindi, se è stato raggiunto un accordo, è possibile definire tutte le clausole di divorzio attraverso due studi legali che legalmente devono collaborare, il visto della procura e la trasmissione dell'accordo all'ufficio di Stato civile.